Il giornale è più la notizia immediata che può essere o non essere notizia, può essere o non essere informazione, il giornale invece diventa molto più specialistico, molto più di professione, molto più di approfondimento, sta assumendo un ruolo diverso, importante, forse più importante di prima, proprio perché ci sono i giornali. E però, insomma, consentitemi di ricordare, io me ne sono segnati perché vi voglio ricordare quando sono esperienze sul serio, belle, che vanno ricordate e che non appartengono all'attualità dei giornali, insomma, io saluto e ricordo sempre, per favore, il maritone, il professore Varsini, il Corriere della Scuola, da Zanzane, qui si è creata la Cotiglione, qui si è creata la classe dirigente, qui in parte si è creata l'Italia. Sono cose importanti che sono nate nelle nostre scuole con il coinvolgimento di tutti gli attori, con quelli che hanno sempre sponsorizzato e hanno creduto che il giornale nelle scuole potesse fare una differenza nella formazione. E qui racconto l'appello di Giovanni Luccio, l'appello dal mio punto di vista è intelligente, quello di dire che oggi noi siamo soggetti attivi o soggetti passivi, ma siamo soggetti oggetto della comunicazione. Non può essere più una materia che non viene una quarta e la metà definata, può essere anche un rispondo, soprattutto anche un risultato. Perché lo siamo, lo siamo se fa qualunque tipo di professione, non solo i politici, sono soggetto oggetto della comunicazione e quindi della informazione. Ma insomma siamo nella società della informatizzazione e della informazione e per cui è evidente che questa deve, dal mio punto di vista, diventare materia. Sono particolarmente lieto di ospitare questa quinta edizione a Benevento, sono particolarmente lieto e mi candidato a ospitare la decima edizione dei vari giornali delle scuole l'anno prossimo. E' la decima, già magari organizziamo qualcosa anche di più, detto al nostro standard, di più, detto al nostro standard, assolutamente compacente a quello che vuole essere disabilitato, ci sono gradi, ci sta l'essenzialità, però l'essenzialità che fa essere, in una qualche maniera, in un altro, quello spirito di sottibilità che questa manifestazione ha sempre avuto anche per una delle ragioni, per legge finanziarie, un po' quello che sta accadendo nel nostro Paese. Per cui, non abbiamo fatto parte del regno delle due Sicilie, ma siamo stati città papalina, per cui i nostri peccati si sono assolutamente spiati. Con questo io vi saluto, vi ringrazio, starò con voi ancora qualche momento, vi cercherò qualche altra relazione, sicuramente è assolutamente interessante e poi magari ci saluto. Grazie. Grazie al Sindaco e naturalmente noi vogliamo l'occasione per ringraziare sia il Sindaco che il Benevento per questa bellissima accoglienza che ha riservato a noi, nel Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Ma anche la libertà dell'informazione, perché un popolo che non è libero è un popolo che non cresce. Se voi notate, i Paesi che stanno meglio al mondo, i Paesi più evoluti, anche più ricchi, ma anche più civili, dove c'hanno grandi scuole, grandi ospedali, uno stile di vita molto elevato, hanno un fantastico mondo dell'informazione, hanno molti giornali, molte televisioni, hanno un'informazione libera, cioè poco condizionata, diciamo, dei poteri economici e politici e quindi la libertà dell'informazione misura il grado di nociviltà di un popolo e la mancanza di informazione misura le dittature. Voi avete noto che cosa fanno i dittature? No, un fotografo. Ti tengo, prego, accomodatevi su. Eccoci, cari, si preparano un applauso però, eh? Qua abbiamo i migliori giornali nelle scuole di tutta l'Italia, fermatevi. Allora, scusa, si prepari Notiziopoli del ventesimo circolo didattico Pistessi, si prepari Idus Silente dell'Istituto Sezze, Piance, Marine e Basiano di Sezze, provincia di Latina. Prego, prego. Bene, allora, con chi siamo? Ho perso il filo del Pistessi. E noi salutiamo il sindaco Fausto Beppe che per ragioni ovviamente di lavoro e di grandi impegni ci saluta e noi lo salutiamo e ringraziamo. Grazie sindaco. Guardate quanti fotografi, guardate quanti fotografi. Accomodatevi, accomodatevi, venite più avanti. Allora, siete, eh beh, meno male. Beppo la forza. Siamo noi, mi sembra una canzone pascolosa. Signora, allora, tutto, siete in tre, suppongo che voi non siete la scolaresca, quindi appartenete. Voi docenti. Ecco, i docenti come vivono questa avventura? Eh, in modo meraviglioso perché la testimonianza... Si può mettere, so che sono magari un po' orso. Venite, ragazzi. Ah, che bello. Scommetto che tu sei la scolaresca. Andro, andro, perdonami, volevo pregare i docenti, i referenti delle scuole di dare uno sguardo al foglio per avere la sequenza. Io chiamo però se si possono cominciare a preparare. Poi pregare tutti di indossare il cappellino come fanno questi bimbi, così la fotografia diventa anche più simpatica. Allora, il piccolo sidicino del primo circolo teano di Teano. Prego, andro, vai. Cosa vi diverte di più nello scrivere un giornale? Sì, la mattina. Purtroppo. Come? Purtroppo, insomma. Allora, dà soddisfazione questo scrivere il giornale a scuola. I ragazzi sono contenti. Il giornalino, secondo circolo, Ferentino da Ferentino. Prego, a seguire lì. Senti chi parla, era anche un film doppiato da Paolo Villaggio, se non so. E anche voi, suppongo non studentessa, ma professoressa, l'insegnante. Si diverte? Io sì, anche loro. Volevo dire che noi abbiamo fatto quasi mille chilometri per venire qui e l'abbiamo fatto con piacere perché pensiamo che questa sia una bella cosa, l'importante. Allora, venite perché siete in tanti, non vorrei. Venite, stringetevi. Avete accolto quest'iniziativa a braccia aperte, ha subito ritenuto che fosse una cosa... Paolo del Colle, fuori classe, Paolo del Colle. E tutti contenti che possiamo accomodarci per la foto di prammatica, complimenti. Suntime, non c'era inferiore. Eccoci, inversione marinaresca, vieni qua. Vieni qua. I cappellini, i cappellini. Professore, suppongo. Professore, dottore. Vicepreside, vicepreside. In sostituzione del grande capo, com'è il vicepreside? Buono, oppure... Qual è la cosa che vi piace di più di questo scrivere il giornale? Stare insieme alle altre. E c'è una materia in particolare che vorreste scrivere. Anche voi, ma in quanti siete? Allora. È solo una delegazione, perché nella nostra scuola c'è una redazione a scuola, dall'una alle tre del pomeriggio. Ancora un passo avanti, perché vedo che siete veramente in tanti, e questo naturalmente si fa piacere. Allora, vi vedo tutti salienti, questo è un ulteriore piacere. Ti diverti tanto a te, eh? Eh, sì. Cosa ti piace scrivere? Di quale argomento? Di quale materia? Ma in generale, però più un'attualità. Attualità. Ti vedo bene come giornalista. Voi naturalmente avete in mente la signora che si sta mimetizzando dietro ragazzi. Allora, Chiara, voi avete preso questo impegno del giornale con molta serietà, è vero? Sì. Vi impegnate tantissimo. Sì. Cosa ti piace? Tutto, tutto. No, no, io ho visto su, vedete, dice, non lo so, ma lei intendeva dire tutto. C'è qualcuno di voi che ha intenzione di diventare giornalista? Comunque cimentarsi. C'è qualcuno? Lo vedete, è sempre la maggioranza, il lavoro di giornalista. Direttore. Allora, come si comportano i ragazzi? Bene, bene. È molto giovane per essere direttore, però. Un po' sbarbatello. Invece l'alunna, suppongo, invece come si trova? Sembra molto affascinante fare il giornale nelle scuole, perché si privilegia. Lo dicevo, ma la mia dirigente. Cosa dicono papà e mamma di questo giornale? Sono contanti. E meno male, ci mancherebbe altro. Forse coraggio, potete accomodare. Maria Rosaria, una delegazione numerosa che noi accogliamo sempre con piacere. 35 giovani giornalisti media di Ponte Dera. Eccoci, allora. Si prepari. Giornale del cittadino? Venite cittadini, siete in quattro cittadini. Vieni qua, vieni qua. Ti bello sveglio. Allora, tu sarai giornalista sportivo da grande? No. No, bene. Sarai giornalista di cronaca? No. Però ti diverti a scrivere il giornale? Sì. Quanto ti diverti? Moltissimo. Oh! Perché poi lavoriamo anche insieme, ci divertiamo. Beh, questo era il senso della collettività e mi sembra giudicare anche dalla sua faccia sorrida. Con i bellissimi. Bene. Anche lei perfettamente, come giornalista andrebbe bene e quindi... Non vedo che lo faccio. Ecco. Ecco, allora, vedete che non è un caso. E quanti siete? Ecco, forza. Grazie. Venite, venite, venite. Avanti, sedentanti. Buongiorno. Sono tutti dalla stessa parrocchia, sedentanti. Benissimo, via. Eccoci. Ah, sono arrivati, va beh, insomma. Un po' frammentati, un po' frammentati, ma insomma ce l'abbiamo fatta. Allora, voi invece siete? Inchiostro vivo. Davide. Si prepara i carafani. Inchiostro vivo. Tu sei uno di quelli che macchia camicia, tutt'altro che... E' un'esperienza unica perché ci permette inoltre di effettuare degli incontri pomeridiani in i quali appunto... ...la nostra formazione di Castrovilla, rinformazione di l'indominale. ...la massima utilità dell'ordine presente sul palco quest'oggi con un lavoro fatto dai nostri allievi. E quindi il segretario... Oh, signora, anche lei bella sorridente, ma quanto siamo sorridenti. Quest'iniziativa, allora, da 1 a 10, quanto vi piace? 10, mi piace. È la prima volta che siamo premiati qua, però abbiamo avuto altri premi, come l'altro giornale. Quindi pubblicavo due e su delle riviste capuane, in modo che la voce del liceo sia diffusa un po' in tutta la zona. E il liceo, il carofano di capo... E poi c'è importante che i ragazzi capiscano... Buona la prima spasta gli articoli. La società della comunicazione attuale è importantissima, insomma. Cerella Paola. È veramente determinante. Volevo dire che il nostro giornale è nato nel 1931. Ragazzi, è un pisa, pisa. Potrebbe essere anche il tuo futuro professionale. No, benissimo. Però, insomma, è una cosa che aiuta assolutamente, è importante. Sicuramente... ...professionista, professionista. Io voglio riassumere tutto dicendo... Giacomo Leopardi diceva, chi ha il coraggio di ridere è il padrone del mondo. Io mi cambio un po' lo slogan e dico, chi ha il coraggio di scrivere è il padrone del mondo. Si prepari. Ma che bello slogan. Complimenti al... Venite pure... Venite pure sul palco. C'è un po' di via vai, ma d'altronde è inevitabile in questa occasione. Allora, vogliamo riepilogare? Voi siete? Siamo degli tici fascinotti di Pisa. Docente presto. Sono 23 rappresentanti della scuola. Faccio un piccolo annuncio... Pustogliate gli occhiali, chi l'ha persa è qui? Ok, perfetto. Allora, dove eravamo noi maschi? Voi siete? Riccardo. La voce di astizia. Si impegniamo. Cagliari. Stavo scherzando. Ma certo, ma certamente. Liceale di Minturno. Dico bene? Perfetto. Si prepara ancora un po' di... Minturno, provincia di latino, la professoressa Franca De Netto è la referente. Eccoci. Perfetto. Allora, il professore con la barba si è trasformato. Questo vuol dire che non aveva la barba prima? Prima no, no, non ce l'avevo, sul serio. Non è la professoressa? Ecco, abbiamo un'informazione giornalisticamente consistente. Non è la professoressa. Abbiamo spesso combattendo contro questo ostacolo. Sappiamo che la cultura spesso, ai noi, viene considerata qualcosa di... Il nostro giornale è una palestra di scrittura, di disciplina, di responsabilità. E quindi, visto che è ora... Troppo lontano, voglio dire, comunque dalla Sardegna magari un po' più lontano. Questi ragazzi stanno lavorando bene, con entusiasmo, si avvicini magari ancora un attimo perché sennò... Il nostro comprensivo di Martano, provincia di Lecce, segue partita tipola, siamo alla fine. Venga professoressa, venga. Ho perso il conto, voi siete? Noi veniamo da Martano, provincia di Lecce. Cosa è il titolo del nostro giornale online? Ecco, il fatto che scriviate in internet rispetto al cartaceo è uno stimolo in più, avete più voglia, cioè vi piace di più scrivere in internet. E i denti Raffaele, siete lì? Ecco, bravi, bravi così. Foggia? Foggia? E se non si nasconde. No, no, beh, dovevamo sentire, insomma, l'altra scuola. Allora, a Bergamo con furore come... Ma sei ultra, aspetta, che ti vedo... Niente. No, lo so, un ultras. Però, eh, non sei utile, invece vorresti diventare, tra virgolette, un ultras del giornalismo, nel senso ti piace, ti sei utile, ma tutto a posto. Tieni lì d'occhio, eh, questi ragazzi. È un mare. A dove siamo arrivati? Siamo arrivati quasi alla fine. Quasi alla fine. Sì. E cioè, la zanzara che funge, la zanzara del sud, venite. Liceo statale Vibo Capialbi, Vibo Valencia. Mamma, in quanti siete? Allora avvicinatemi ancora di più, ragazzi. Rotino Daniela. Ecco, la zanzara è evidentemente un animale che si parla, vogliamo dire che ci muoviamo, seguendo la lezione del grande Edoardo De Filippo, di dire cose serie, divertendosi, per loro internet è un gioco, abbiamo inserito il gioco dell'infanzione. Ok, fantastico. Lei ha detto veramente tutto. Vabbè, appunto, è un giornale online, quindi è un prodotto nuovo, un piccolo prodotto, però è sempre interattivo e innovativo. Proprio per questo comunque vogliamo... No, cioè, questa va come un treno, la testa, parte. Questo, questo, con il giornale, questo, sono giornalisti a tutti. Abbiamo una scuola che ci hanno comunicato che sono fermi sull'autostrada, non per incidente, ma per qualche blocco o qualche cosa. Ed è la scuola di Ferentino, reali Severina, di Ferentino, secondo il circolo di Ferentino. Speriamo che arrivi. Di fare il giornale delle scuole, tutti voi che avete presenziato, partecipato, continuate a scrivere, continuate ad impegnarvi perché devate del vostro e del nostro futuro. Grazie a tutti voi, ci rivediamo al prossimo anno. A Benevento per la decima edizione, un grande applauso. A chi organizza, un grande applauso a tutti voi. Grazie. Guardate, per di così. Aspetta, aspetta. Nostra, nostra e segura. Per me. No, 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 no. E la venga, venga. Grazie, esatto. A lei da me. Viene io. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.